Torna con la settima edizione l'evento One Day, l'iniziativa organizzata dalle guide del Borsacchio nell'ambito della valorizzazione del territorio. Un'intera giornata dedicata all'ambiente, al consumo sostenibile e alla creatività. Un modo diverso per vivere il territorio attraverso la bellezza della natura e dell'arte in ogni sua forma. Molte le associazioni in campo che animeranno l'evento fino alla mezzanotte di oggi. Il One Day è una di queste giornate particolari che viviamo all'interno della riserva, organizzata da Jazz Crew, da Danilo Feroci, insieme a noi delle guide e tantissime altre associazioni. È un modo diverso per vivere una riserva, stare insieme, non consumare, fare un consumo sostenibile e poi immergersi nella bellezza della natura con delle escursioni e poi tantissima arte, musica, cultura, pittura. Insomma sarà un'intera giornata dove con cadenza di un'ora, un'ora e mezza si susseguiranno un insieme di eventi per apprezzare il bello e la natura. Siamo riusciti comunque, grazie a un'implementazione sul sito, alle prenotazioni online, a una serie di calendari e di alcuni investimenti che abbiamo dovuto fare per rispettare le norme sul Covid, siamo riusciti al momento ad avere circa 3.000 aderenti alle iniziative. Non sono numeri come l'anno scorso che riuscivamo ad arrivare anche a 6.000 persone durante la stagione estiva, però con mezzi praticamente inesistenti, offrendo soltanto il capitale naturale che abbiamo, lo spazio aperto della riserva, siamo comunque riusciti ad avere una stagione turistica molto frequentata all'interno del Borsacchio. L'unico problema è che purtroppo il 98% delle persone sono ormai in grado e consapevoli del luogo che vivono, purtroppo quell'1-2% di idioti ogni tanto esce da qualche luogo o meno, entra in riserva e fa qualsiasi stupidaggine che gli può venire in mente.